Nuove regole per tamponi e quarantene. Il tampone rapido sarà utilizzato per la diagnosi di covid sia all'inizio che alla fine della malattia, solo in casi eccezionali, sarà effettuato il tampone molecolare su prescrizione del medico. Chi scopre di essere positivo ad un tampone fai-da-tesi deve recare in una struttura dove effettuano i tamponi rapidi, dalla farmacia, al laboratorio di analisi, al drive dell'ASP per fare un ulteriore tampone, sempre rapido, per conclamare la positività. Tutti gli altri saranno dichiarati positivi al primo tampone rapido effettuato. I positivi per l'isolamento lo effettueranno di sette giorni se vaccinati con tre dosi o con delle dosi di cui l'ultima effettuata da meno di 120 giorni. Allo scadere devono recarsi al drive dell'ASP e solo dell'ASP per fare un molecolare. Se tampone è negativo, provvedimento di liberazione sarà immediato e non arriverà niente per mail. Al paziente basterà il risultato del tampone consegnato dai sanitari del drive. Se positivo, ancora, invece, un isolamento di altri sette giorni. Per chi, invece, non è vaccinato o ha una sola dose di vaccino o entrambe di cui l'ultima da più di 120 giorni ed è positivo, l'isolamento sarà di 10 giorni. Allo scadere tampone rapido, se è negativo, subito libero. Se è positivo, altri 10 giorni di isolamento e poi nuovamente tampone. Altra storia è la quarantena. Per chi ha avuto un contatto stretto con un positivo, se vaccinati con tre dosi o due della quale l'ultima da meno di 120 giorni, niente quarantena. Solo obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni e tampone finale solo se è in presenza di sintomi. Per chi non è vaccinato o con una sola dose di vaccino o con due dosi, di cui l'ultima da meno di 14 giorni, quarantena di 10 giorni dalla data d'inizio del contatto, è tampone antigenico al termine. Se vaccinato con due dosi da più di 120 giorni, invece saranno 5 giorni di quarantena e tampone rapido alla fine. Per chi non è vaccinato con due dosi,